Allora, maratona femminile l'ha vinta Francesca Pagani del Bel, Taron, San Cosma e Lazaret, poi secondo, terzo e quarto posto. Mentre la squadra la vince il Bel, al secondo posto il Lazaret, e al terzo posto pari merito Taron e San Cosma. La maschile, il premio Teodoro Filippini l'ha vinto Pietro Dal Pozzo del San Cosma, al secondo posto il Taron, al terzo il Lazaret, al quarto il Bel, le squadre, primo e il Taron, lo ridico, primo e il Taron, secondo a pari merito San Cosma e Lazaret, e terzo e quarto, quindi il Bel. La classifica non la diciamo adesso, la diciamo stasera, Capitani in Aula Paglio, ma è evidente che credo si capisca e anche chi viene da fuori ha capito chi ha vinto il Paglio. Bene, quindi io vado a prenotare la camera per dormire fuori stasera e intanto aspetto i Capitani in Aula Paglio per la consegna della classifica finale. Complimenti a tutti, grazie! Guido, tu devi venire là! Guido, tu devi venire là! Guido, Guido Foddis, tu devi venire in Aula Paglio, insieme a Enrico Girotto Moretto, Mauro Seccaroni e Serafino La Rocca. Guido, Guido, Guido! Stasera la classifica allora, ha vinto il taroso contento, stasera la classifica, molto bene, che aspettiamo stasera?